Musica Musica Retrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apre un'altra settimana dedicata all'informazione vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno in primo piano la politica vacilla la poltrona del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini i dimasciani infatti sono pronti a staccare la spina sentiamo tutto nel servizio di Andrea Daurelli vacilla la poltrona del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini dopo le stare di fuoco fra dimissioni rassegnate e revocate il panettone mangiato all'ultimo minuto lo scoglio più grande per l'amministrazione comunale è quello delle elezioni regionali manca meno di una settimana a faridico appuntamento il 10 febbraio e già tornare a di crisi a Palazzo San Francesco dopo le dichiarazioni resere al consigliere comunale Fabio Pingue a un datigì sul punto di non ritorno da questa amministrazione alla luce del nuovo quadro politico che si va delineando in maggioranza anche i dimasciani sono pronti a staccare la spina dall'11 febbraio potrebbero riprendere le trattative per mandare a casa la Casini e sciogliere in anticipo la consigliatura negli ultimi tempi è stato proprio il PD a mantenere in vita la Casini prima la commissione sui piani complessi risertata poi il voto mancato sulla richiesta di sospensione del consiglio comunale sul CDA del Coggesa anche se ad onor del vero non si registra il voto compatto di avanti sul Mona ma dal giorno dopo le elezioni i tre consiglieri del PD non sono disposti a mantenere in vita l'amministrazione comunale alla luce anche delle ultime esternazioni di Pingue che ha lasciato intendere un possibile rivederci dalla maggioranza se la stessa maggioranza vuole staccare la spina non capiamo perché noi dobbiamo mantenerla in vita spiegano i dimasciani certo è che bisognerà capire se tutta la minoranza sarà compatta con le eventuali dimissioni in blocco per alleanza per sul Mona ad esempio il treno potrebbe essere già passato il dato praticamente certo è che sembra quasi impossibile ricucire lo strappo del capogruppo di avanti sul Mona candidato al consiglio regionale e il sindaco Casini ieri il primo cittadino era in prima fila all'incontro elettorale di Marianna Scoccia dal dietro le quinte dell'hotel meeting è passata al primo piano delle ginestre senza parlare ma tanto è bastato per scatenare le prime reazioni Pingue intanto torna a bomba sulle partecipate in questa campagna stiamo vivendo un fenomeno inedito e anomalo scrive il candidato di più Abruzzo i vertici dei cosiddetti enti sovracomunali istituzioni a totale capitale pubblico che annoverano i comuni nella compagine sociale sono sfacciatamente schierati a sostegno di un determinato candidato questo fa pensare soprattutto con riferimento alla trasparenza uno dei postulati dell'azione delle pubbliche amministrazioni faccio quindi un appello all'assessore Mariani a vigilare su questa vicenda perché non trova ragione etica la speculazione elettorale fatta sul dramma delle necessità lavorative che tante famiglie e tanti ragazzi vivono nella nostra valle questo non è mai tollerabile e diventa assolutamente inaccettabile quando questo si impone a qualche capetto di società partecipate dal comune e voglio tendere la mia mano ai tanti che hanno ricevuto false promesse perché nello sconforto che viviamo a voi va la mia più totale vicinanza che osa Pingue senza usare mezzi termini si annuncia quindi un finale di campagne elettorali a cardiopalma che potrebbe aprire le porte a una nuova crisi in quel di Palazzo San Francesco siete davvero arrivati al punto di non ritorno? e adesso passiamo proprio agli eventi della campagna elettorale sala piena ieri per l'evento a sostegno del sindaco di Prezza Marianna Scoccia candidata al Consiglio regionale io non ho assolutamente nessun leader nazionale che viene qui a generare consenso ma a me non interessano perché il nostro consenso noi ce lo stiamo guadagnando sul campo ormai da anni, ogni giorno, attraverso il contatto con la gente ascoltando la gente, le esigenze e cercando anche di provarle a risolvere questo veramente per me è fondamentale lo ha detto il sindaco di Prezza Marianna Scoccia candidata al Consiglio regionale nelle fila dell'Udc pronta a range finale della campagna elettorale per elezioni domenica prossima 10 febbraio la Scoccia ha bissato il bagno di folla a centinaia hanno riempito la sala delle ginestre Rocca Casale con cartelli, palloncini e applausi circa 300 persone sono rimaste fuori visto il tutto esaurito nessun big per sponsorizzare la sua candidatura ma in prima fila si sono sedute le altre rappresentanze istituzionali del territorio a cominciare da sindaco di Sulmona Anna Maria Casini suo vice è Nicola Angelucci presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso i vertici della fondazione Carispac nell'incontro presenta Rota Fiorenza a Quadraro hanno preso la parola anche l'ex vice sindaco di Sulmona Luisa Taglieri e il candidato al Consiglio regionale in accoppiata con la Scoccia Andrea Liberatore Cara Marianna tu sei una di noi e noi applichiamo a te ad una donna la nostra vita ho visto fischi e proteste durante l'inaugurazione del nuovo ospedale contro l'assessore regionale alla sanità Sibio Palucci una di quelle persone che protestava ora è candidata con loro è intervenuta la Scoccia che tira fuori la grinta per l'ultima settimana di campagna elettorale punterò tantissimo sull'agricoltura in questa campagna elettorale non ho sentito nessuno parlare di agricoltura quando in realtà dovrebbe essere proprio il punto fondamentale su cui innestare la rinascita del nostro territorio per cui il mio impegno sarà proprio quello di dirottare gran parte dei fondi strutturali per le aree disagiate e quindi per la Valle Peligna questo sarà una cosa, un obiettivo fondamentale soprattutto metterò la faccia e mi impegnerò per trovare tutte le soluzioni possibili e immaginali per contrastare la situazione dei cinghiali nelle nostre zone un altro punto fondamentale a cui mi impegnerò sin dal primo istante sarà proprio sulla sanità dopo aver ottenuto la nomina da primario della UOC di anestesia e rianimazione il passaggio successivo sarà proprio quello di indire dei nuovi concorsi da primario per la UOC di medicina generale e chirurgia generale successivamente per ortopedia e cardiologia a stemperare toni di una campagna elettorale tutt'altro che tranquilla ci ha pensato il presidente Caruso riferendosi agli avversari della scoccia qualcuno ha detto che ha messo la freccia per il sorpasso io dico loro di mettere la freccia e accostare perché arriva il carroattrezzi Chiosa Caruso tra un po' ci occuperemo anche dell'evento organizzato ieri a Sulmona dal Movimento 5 Stelle alla presenza di Battista appena sarà pronto il servizio lo seguiremo quindi interrompiamo momentanamente la politica ci occupiamo adesso di protezione civile volontari della protezione civile nel comitato regionale per i mezzi si rinnova il contratto sentiamo nel servizio di Andrea Daurelli la regione Abruzzo ha inserito il gruppo comunale di volontariato protezione civile di Sulmona nel comitato regionale di recente costituzione a rappresentare il territorio del centro Abruzzo saranno proprio i volontari di protezione civile di Sulmona scelti tra le oltre 100 organizzazioni a livello regionale posizionandosi in graduatoria tra le prime tre nella provincia dell'Aquila e le prime nove in regione al tavolo saranno presenti anche rappresentanti di organizzazioni nazionali iscritti all'elenco centrale della protezione civile svolgeranno compiti di consulenza, ricerca, approfondimento promozione e formazione su tematiche relative al sistema di volontariato regionale comprese quelle per strutturazione, impiego, coordinamento operativo con le altre componenti del sistema l'obiettivo è quello di stabilire le linee guida e l'organizzazione del volontariato regionale per i settori di formazione e piani di emergenza con il comitato si punterà a migliorare la sinergia tra volontariato e regione Abruzzo facilitare le esigenze delle organizzazioni nel sistema normativo di protezione civile un risultato meritato conseguito dal gruppo comunale di protezione civile che ha portato a compimento un lavoro cominciato diversi anni fa sempre in prima linea nelle emergenze e loro va il grazie a nome della città afferma il sindaco Anna Maria Casini un risultato centrato ad onor del vero assieme all'assessore comunale con delega alla protezione civile Antonio Angelone nei giorni scorsi peraltro è stato rinnovato il contratto di comodaro d'uso gratuito delle attrezzature e mezzi regionali assegnati al gruppo comunale di protezione civile di Sulmona per l'assessore Angelone si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro sbordo dei nostri volontari nelle numerose attività e adesso la pagina dedicata al calcio nella settima giornata di ritorno del campionato di eccellenza tornano al successo i nerostellati che a Lezio Ricci battono lo spoltore per 1-0 con una rete di pendenza insordio positivo dunque sulla panchina di Pratolani per il nuovo tecnico Alberto Bernardi il Chieti espugna il campo della Miternina per 2-1 ed allunga sul San Buceto che è stato sconfitto in casa della Torrese per 4-1 la capolista Chieti si porta più 8 dalla seconda posizione i nerostellati restano terzultimi ma raggiungono quota 24 avvicinandosi alla zona per la salvezza diretta in quanto le distanze si sono ridotte da 7 a 4 nella sesta di ritorno del girone B di promozione pari esterno dell'Ovidiana Sulmona che ottiene 1-0 a Chieti nello scontro diretto con il Sant'Anna sconfitta a Casalinga invece per il Raiano che falcidiato dalle assenze con ben 5 squalificati viene superato in casa per 3-1 dal Fossa Cessi alla rete dei Raianesi è stata realizzata da Cadriu in vetta vincono sia il Lanciano 5-1 contro la Casolana che la Bacicalupo-Vastomarina 2-0 contro il Piazzano Lanciano sempre al comando con 8 punti di vantaggio sui Vastesi L'Ovidiana Sulmona sale di una posizione diventando quart'ultima e raggiungendo il Raiano a 23 e vediamo adesso lo 0-0 dell'Ovidiana Sulmona contro il Sant'Anna episodio nella ripresa quando è stata lanciata una bottiglietta di plastica all'indirizzo di un assistente con l'arbitro che è stato costretto a fermare il gioco per alcuni minuti il servizio finisce in parità lo scontro salvezza tra Sant'Anna e Ovidiana Sulmona con le due squadre che non si fanno male terminando il match sullo 0-0 nei padroni di cassa sono assenti il difensore Costantini per squalifica il centrocampista di primi o febricitante negli ospiti manca solo Sciala mentre dispetta domenica scorsa l'unica novità è rappresentata dal rientro al centrocampo di Morelli al decimo punizione di Morelli con Baci che in aria schiaccia di testa ma la palla termina in out successivamente ancora un pallone spedito dentro l'area da Morelli ma c'è l'ottima chiusura del portiere Muscato su Cucurullo il Sant'Anna si vede con una punizione di Torsellini respinta con i pugni da Meo al 31issimo Ovidiana Sulmona costruisce una bella azione grazie a Morelli che ruba palla ad un avversario scambio poi tra Cucurullo e Del Conte con il numero 9 che prevale rispetto a più giocatori e prova a trafiggere Muscato che però riesce a parare il primo tempo si conclude con un tiro di Morelli che trova l'opposizione di Muscato cambio in attacco da parte dei Chietini con l'ingresso di Amoresi al posto di Torsellini che apre il secondo tempo dopo pochi istanti dal fischio di Antonio Bruno di Lanciano si registra un traversone dalla destra di Lorenzetti per il colpo di testa in area di Federico con la palla che termina al lato la squadra di Di Felice ci prova con insistenza a differenza del Sant'Anna che nella ripresa non tirerà ma in porta al diciassettissimo destro al volo di Capitan Tosti dentro l'area con palla di poco a lato al venticinquesimo Lorenzetti verticalizza per Cucurullo con la conclusione dell'attaccante che viene parata da Muscato durante una sostituzione del Sant'Anna avviene qualcosa che richiama l'attenzione dell'arbitro che dopo essersi consultato con il secondo assistente estrae il rosso per doppia munizione a Diuf Reo di aver avuto una reazione nei confronti di un giocatore sulmonese polemica l'uscita dal campo del numero 9 di casa che se la prende con Giovanni Federico a spezzare poi il gioco ci pensa qualcuno dal pubblico che getta in campo una bottiglietta d'acqua di plastica all'indirizzo del secondo assistente Alessio Fatato di Avezzano con il direttore di gara che si vede costretto a fermare la partita per alcuni minuti e a chiamare i due capitani dopo questo gesto commesso da uno spettatore che era sistemato nella parte dove si trovavano i sostenitori del Sant'Anna si riprende finalmente a giocare e al 36esimo Coletti servito da Morelli calcia con il destro ma la palla si perde sul fondo al 90esimo lo spagnolo Nabilmo Ahmed Ashad è entrato al posto di Lorenzetti e segue un assist dalla destra ed in area calcia Federico non colpendo però bene la palla che si perde fuori termina 0-0 con il punto che serva ad entrambe a muovere la classifica in Sant'Anna polevizza con la direzione di gara e preferisce non rilasciare dichiarazioni mentre c'è amarezza da parte dell'Ovidiana Sulmona perché pur non brillando nella prestazione è mancato solo il gol nella terza di ritorno del girone A di prima categoria vittoria casalinga del Bugnara che batte la plus ultra di Trasacco per 1-0 grazie ad un rigore di Andrea Crugnale la capolista L'Aquila batte il Tagliacozzo per 4-0 e guida la classifica a più 4 sulla seconda posizione il Bugnara consolida il sesto posto portandosi a meno 3 dalla zona playoff e vediamo adesso nelle immagini il gol decisivo del Bugnara contro la plus ultra assegno il solito Andrea Crugnale con un rigore all'ottantottesimo assegnato per un fallo di mano in aria il bomber Peligno ieri ha realizzato dagli 11 metri il suo diciottesimo gol in campionato Crugnale nella classifica marcatori del Gironea di prima categoria si trova al secondo posto superando Carosone dell'Aquila e rimanendo dietro solamente a De Torre del San Benedetto Venere che comanda con due gol in più rivediamo ancora la trasformazione di Crugnale con questo calcio di rigore nel Girone C della prima categoria sconfitta del Popoli per 1-0 sul campo della capolista San Giovanni Teatino che resta più uno dalla seconda posizione la squadra di Dortenzio nonostante il passo falso rimane al quinto posto ma le distanze dalla vetta si allungano a sette punti ennesima sconfitta per il Pacentro che perde per 4-0 contro la vice capolista Elicese i Pacentrani sempre ultimi con 8 punti nella quarta giornata di ritorno del Girone A della seconda categoria vittoria casalinga della Morronese per 3-1 contro il San Giuseppe di Caruscino con una doppietta di Esposito e un gol di Anna Morelli perde ancora l'Aurora che esce sconfitta per 3-0 sul campo del Capitignano pari casalingo della capolista Ortigia per 0-0 contro il Deportivo Luco la Moronese consolida la settima posizione salendo a 21 punti Aurora sempre ultima con 4 punti nella seconda di ritorno del Girone B della terza categoria pari casalingo della Maiella United per 2-2 contro lo Sporting liberati Guido non ha giocato invece il Rocca Casale per impraticabilità del campo di Villa Vallelonga invariate le posizioni di vertice con il forme al comando e davanti di un punto sulla San Pelinese Rocca Casale in zona playoff al quarto posto con 21 punti alle spalle con 18 punti la Maiella United insieme al Pescasseroli e adesso passiamo al calcio a 5 nella terza di ritorno del Girone A della serie C2 sconfitta del Sulmona Fuzzal a Silvi contro la Dinamo Faras per 5-3 in gol nei sulmonesi Caputo Notanandrea e Veneziale il Sulmona perde la prima posizione in quanto viene superato dalla Nobel Boys dalla Fenice la squadra di Benjamin Fonte scende al terzo posto a meno due dalla nuova capolista Nobel Boys prossima avversaria dei sulmonesi sabato 9 febbraio al palazzetto dell'incoronata e chiudiamo la pagina dedicata al calcio come preannunciato torniamo alla politica per occuparci dell'evento del movimento 5 stelle che si è svolto ieri a Sulmona via i dirigenti della sanità nominati dalla politica di Battista torna a Sulmona come attivista tra gli attivisti Andrea D'Aurelio nel servizio nessun commento sul progetto SNAM per non speculare in campagna elettorale per una presa di posizione netta sulla sanità quattro chiacchiere con gli attivisti il punto su quota 100 ieri è stato il giorno di Alessandro Di Battista leader pentastellato che è tornato a Sulmona per incontrare gli attivisti 5 stelle nei locali del Soul Kitchen assieme alla candidata alla presidenza del Consiglio regionale Sara Marcozzi e la senatrice Gabriella Di Girolamo non un comizio elettorale come avvenne lo scorso anno nella centralissima piazza 20 settembre ma un incontro quasi informale dove sono stati toccati però punti nevralgici per l'interesse dei paesi e della regione la sanità svetta nella classifica delle priorità dobbiamo cacciare i dirigenti della sanità nominati dalla politica ha esordito il Diba che si è definito attivista tra gli attivisti ho fatto quattro chiacchiere sulle problematiche e le battaglie da fare un sacco di roba il governo le fa facendo è intervenuto su Vitalizzi ha realizzato il reddito di cittadinanza quota 100 mandiamo in pensione persone prima però adesso ci stanno delle altre cose da fare sempre su tali dei costi della politica su politiche europee lavorare un po' su tematiche sanitarie come cacciare i dirigenti nominati dalla politica dalla sanità insomma tutto un sacco di cose non fa più che altro a incontrare tutti gli attivisti sono attivista tra gli attivisti e poi a chiedere un po' da loro pareri sulle prossime battaglie a realizzare avete scelto i luoghi di cultura comunque luoghi di aggregazione anziché le piazze per questa campagna elettorale come mai? fa un po' freddo io per una volta voglio stare un po' sì ma poi questi sono incontri non so come il si sono incontri tra attivisti in cui facciamo un po' il punto della situazione tutte le cose fatte le cose da fare e adesso c'è un aggiornamento di cronaca un incidente stradale mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada 24 Roma-Teramo per questa ragione il tratto tra Vicovaro-Mandele e Carzoli-Oricola verso Teramo e Pescara è stato chiuso al traffico l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 39 e sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura dall'interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata con code dopo l'uscita obbligatoria a Vicovaro-Mandela si può rientrare in autostrada a Carzoli dove aver percorso la viabilità ordinaria sul posto è presente il personale di strada di parchi e tutti i mezzi di soccorso e la polizia stradale e adesso sentiamo quali sono le informazioni dall'Aquila che ci racconterà il capoluogo punto it nel nostro collegamento giornaliero ci sono degli eventi di cronaca da commentare all'Aquila ieri è stato preso d'assalto il casello di l'Aquila Est e dunque parleremo di questo episodio di cronaca insieme ad un incidente un autobus che viaggiava sulla tratta Rocca di Mezzo l'Aquila è finito questa mattina fuoristrada ma per maggiori approfondimenti ci colleghiamo con il capoluogo punto it trovati alle notizie del capoluogo che oggi compie 15 anni come spiega infatti l'editoriale del direttore Roberta Galeotti il 4 febbraio 2009 è stato firmato il passaggio di proprietà del capoluogo che oggi appunto compie 15 anni lo stesso giorno in cui era stato registrato al tribunale dell'Aquila tante le energie profuse con tanto entusiasmo e tanti colleghi che hanno spiccato il volo dalla nostra redazione e passiamo all'ampia pagina di cronaca assalto a colpi di piccone al casello l'Aquila Est due malviventi sono entrati in azione intorno alle 23 di ieri sera e hanno divelto la colonnina della cassa automatica facendosi consegnare anche l'incasso dal casellante indaga la polizia giudiziaria della Polstrada il casello è rimasto chiuso fino alla tarda mattinata di oggi per le riparazioni del caso fuoristrada un bustua della tratta Rocca di Mezzo l'Aquila probabilmente a causa del ghiaccio il mezzo che trasportava per lo più studenti è finito fuoristrada solo un ragazzo ha riportato lievi traumi escluso il guasto tecnico tra ieri sera e questa mattina altri incidenti stradali si sono verificati nel territorio aquilano potete leggere la cronaca di tutti questi altri incidenti sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra testata Stiffe grotte allagate il rio gamberale è sondato il brusco rialzo delle temperature di questo fine settimana e la tanta pioggia caduta negli scorsi giorni ha portato allo scioglimento delle nevi e l'acqua si è riversata tutta a valle del territorio di Stiffe le grotte si sono così allagate un fenomeno che vi avevamo già raccontato lo scorso ottobre e si è dovuto provvedere quindi alla chiusura Sport tutti i risultati della prima categoria vincono città di L'Aquila San Benedetto in Venere e Pizzoli che superano le rispettive avversarie e si confermano alle prime tre posizioni in classifica meteo all'Aquila tempo instabile con piogge nel corso della giornata con tendenza a un aumento della copertura nuvolosa i venti ispirano da nord est e si prevedono compresi tra 9 e 14 km all'ora al mattino irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia nel corso del pomeriggio cieli grigi con piogge di moderata intensità in serata nuvolosità diffusa con temporanee aperture per oggi è tutto vediamo appuntamento con le notizie del capoluogo a domani danni su tutta la costa a seguito delle mareggiate in Abruzzo i danni maggiori hanno interessato il litorale della provincia di Teramo in particolare la spiaggia di Pineto questa mattina il dirigente all'interim del settore opere marittime della regione Abruzzo Franco Gerardini sta effettuando sopralluoghi parliamo di una situazione critica detto conseguenza di un evento particolare inedito come forza per le nostre zone con onde alte anche oltre due metri lasciamo dunque quest'ulteriore aggiornamento adesso prima di concludere vediamo la programmazione cinematografica Multisala Igeland di Corfinio Dragon Trainer il mondo nascosto gli orari di programmazione sono le 18.10 e le 20.30 compromessi sposi alle 18.00 e le 21.10 Creed 2 alle 18.30 e alle 21.10 per quanto riguarda invece il cinema pacifico di Sulmona abbiamo compromessi sposi alle 18.30 tutto per questa edizione del giorno ci salutiamo con il meteo arrivederci un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio questo è il tempo previsto per la giornata di domani al mattino nuvolosità in generale variabile con nubi che andranno ad intensificarsi sul versante adriatico le condizioni peggioreranno nel pomeriggio temperature minime per lo più in lieve temporaneo rialzo massime con poche variazioni ma con un clima via via più freddo a fine giornata anche per effetto di geli di venti di tramontana a fine giornata Grazie a tutti.